Io, se facessi vivere i miei figli in mezzo ai topi, in quelle condizioni, senza mandarle a scuola, me li tolgono i miei figli. Io veramente faccio un appello ai servizi sociali. Questa mamma non è in grado di stare e di educare e di mettere sulla retta via dei bambini. Non è possibile! A questa mamma devono togliere tutti i bambini. Mi senti un attimo? Ehi, come ti chiami? Mi senti un attimo? Perché non ti guardi a casa tua, piuttosto di parlare sulle nostre cose? Io mi guardo a casa mia. Io a casa mia, signora, mi guardo. Posso dire una cosa, la signora? Mi guardo a casa mia. Io non ho ancora sentito una cosa. Cassi tuoi, capito? Fatti i cassi tuoi, puttana! Oh! Eh. C'è il putto, fatti i cassi tuoi. Io tamo! Io tamo! C'è il putto. Io tamo! Grazie a tutti.